Le prospettive per la grande nel 2021, secondo il Presidente Borgno, l'uscita dalla pandemia e le infrastrutture, e per i cunesi la parola chiave è la speranza. E' attesa per il nuovo DPCM, impianti sciistici verso il nuovo rinvio, per i locali ipotesi stop all'asporto dopo le 18. Mondovì, i vigili del fuoco, grazie all'impegno del comune, restano in città. Sede provvisoria presso l'ex officina Garelli, quella definitiva sorgerà in via Trento. La storia a lieto fine di Ibalù, il piccolo cane abbandonato nel gelo di Villanova Mondovì, ed ora in salvo nel canile di Cuneo. Recocinonda, ben ritrovati cari telespettatori di Telegram ad un nuovo appuntamento con l'informazione della provincia di Cuneo. Apriamo questa edizione del notiziario parlando delle prospettive che ci attendono in questo nuovo anno appena cominciato. Siamo infatti ai primi giorni del 2021 e Telegram ha chiesto al presidente della provincia Federico Borgna quali sfide attendano la Granda per i prossimi 12 mesi. Vediamo cosa ci ha risposto. Presidente Borgna, è cominciato da poco il 2021, quali sono le prospettive per il nostro territorio in questo nuovo anno? Un anno che si spera ovviamente migliore, specialmente per quanto riguarda il profilo dell'emergenza sanitaria. Il 2021 sarà un anno di lavoro molto intenso, perché da un lato c'è da sconfiggere definitivamente la pandemia e lo strumento attraverso il quale la possiamo sconfiggere è la campagna di vaccinazione. Quindi è partita, sta andando avanti, mi sembra bene, nei prossimi giorni arriverà anche il vaccino. Ho visto che è stato depositato all'EMA di AstraZeneca, quindi quello che ha maggiori quantitativi a disposizione. Quindi facciamo conto che per la fine del primo semestre, inizio del terzo trimestre, dovremmo aver concluso la campagna di vaccinazione di massa. Questo ci porterà a ripartire con una nuova normalità. Passata la pandemia, bisognerà, come dopo uno tsunami, capire che cosa si è perso e che cosa è rimasto. Abbiamo perso tante persone, tante vite umane, probabilmente anche alcune attività economiche. Bisognerà tirarci sulle maniche e ricostruire una nuova normalità che sappiamo che non sarà quella di prima. Probabilmente dovremmo anche correggere alcune strutture che si erano venute a creare prima della pandemia e una nuova opportunità. E quindi questo è l'ambito, l'ambito pandemia e ricostruzione del sistema economico post-pandemia. E poi altro ambito di lavoro intenso per il 2021 sono le infrastrutture in provincia di Cuneo che continuano a essere davvero la nostra spina nel fianco. A proposito, la interrompo perché c'è stato il 2021 per la nostra provincia, si è aperto con una buona notizia per quanto riguarda l'Asticuneo. Sì, si è aperta con un'ottima notizia che finalmente è arrivato a conclusione l'Iter per la ripartenza dei lavori dell'Asticuneo. Adesso davvero si tratta solo di aspettare che si sciolga la neve per vedere ripartire quel cantiere. Sappiamo che nel giro di 4-5 anni i lotti albesi saranno finalmente conclusi. Però concluse l'Asticuneo non sono risolti i problemi infrastrutturali della nostra provincia. C'è il nodo del col di tenda che va risolto, bisogna ripristinare la transitabilità del valico prima ferroviario e poi viario. C'è il nodo del collegamento della nostra rete autostradale con la rete autostradale francese, raddoppio della linea ferroviaria tra Cuneo e Torino. E poi c'è la partita che è una partita che la provincia di Cuneo vuole giocare da protagonista, che è la partita della Next Generation EU. Noi siamo stati la prima provincia d'Italia a predisporre un piano strategico a valere su Next Generation EU, dove abbiamo dato la nostra visione di provincia ancora più forte nell'ambito della Green Economy, che investe in formazione, in innovazione, ovviamente in infrastrutture. E davvero speriamo che il 2021, e dobbiamo lavorare tutti perché il 2021 sia l'anno in cui non solo si sconfigge la pandemia, ma in qualche modo si pone fine all'isolamento atavico della nostra provincia. Ecco, e quali prospettive ci attendano per il 2021? Noi non l'abbiamo chiesto solo a Borgna, ma anche ai Cunesi, proprio per le vie del capoluogo. Tra la gente ovviamente domina soprattutto la volontà di lasciarsi alle spalle l'incubo della pandemia. È cominciato da poco l'anno nuovo. Cosa si aspetta dal 2021? Che finisca solo in fretta questa pandemia. Mi auguro migliore di quello appena finito. Ci va poco. Ci auguriamo che vada meglio. Sempre rinchiusi in casa. Che si riaprono le attività, ritorniamo a lavorare. Che si possa tornare a vivere quella quotidianità che ci è stata preclusa l'anno scorso. Poi un po' di tranquillità da parte di chi ci governa, che abbia le idee chiare, che debba dirci quello che dobbiamo essere o quello che dovremo fare per il futuro. Che le cose si possono cominciare a sistemare, insomma uscire da questa situazione di stallo, speriamo. Assicuro più soldi, più ragazze perché il 2020 è andato male, siamo andati a secco. No, da parte di scherzi speriamo vada meglio. Un po' più di comprensione, un po' più d'amore, un po' più di benevolenza. È da un anno che facciamo questa vita. Un 2021 con meno restrizioni e con meno mascherina, speriamo, che possa ritornare a tutto come prima. Il 2021 è cominciato bene per ora. Da solo. Personalmente sì, molto bene. E speriamo che continui come tale. Si sperava meglio, si sperava meglio. Perché un Capodanno così tranquillo l'avevo mai passato, quindi mi è persino piaciuto. Io e la moglie. Ma lei era proprio da solo, da solo. Vabbè, ma comunque neanche i familiari, ognuno era a casa propria, fine così. Sono cominciati i vaccini sotto questo aspetto, lei come è fiducioso o no? Ma io sono molto fiducioso, anzi, appena me lo proporranno lo farò. Decisamente io sì lo farei. Certo. Lo farò sicuro. Sì, sì, assolutamente. Sono abbastanza convinto su questo. Assolutamente favorevole. Spero che mi chiamino. Sperando che lo facciano tutti. Posso anche capire che il vaccino è stato sviluppato in fretta e tutto, ma se non lo faccio io, non lo fa lei, non lo fa nessun altro, è inutile che ci mettiamo. Eh, penso proprio di sì. Se voglio trovare lavoro, sì. Se non faccio il vaccino non ti danno il lavoro, quindi sono costretto praticamente. E lo speriamo anche in un senso civico maggiore. Con molte riserve perché voglio capire un attimino che cosa c'è di contraddicazione, però naturalmente è obbligo per tutti farlo, lo farò anch'io, perché è giusto che sia così per me e per gli altri. C'ho paura del lago, quindi... Credo sia una cosa positiva. Spero sia stato abbastanza controllato come vaccino, per il resto però sì, lo farò. Anche il governo comunque aveva detto se tutti decidono di non vaccinarsi, prima o poi non sarà più una scelta così libera e qualcosa la dovremo fare. Una parola chiave, un desiderio che ti auguri per questo nuovo anno? Una parola chiave. Speranza. Speranza. Serenità. Eh, rinascita. È anche un desiderio, sì. Salute, innanzitutto, al lavoro. Spero porti un po' di serenità a tutti, anche perché io fortunatamente con il lavoro sono andato bene ma so che c'è anche molta gente che... Un po' più di benessere, ma in generale non solo a livello economico, proprio a livello umano. Un po' di fortuna per tutti, lavoro e speriamo bene. Speriamo in bene. Ecco, lo avete sentito, i cunesi sperano come tutti di lasciarsi alle spalle l'emergenza sanitaria, allora andiamo a vedere qual è la situazione proprio dell'emergenza sanitaria sul territorio regionale e provinciale. A partire, come sempre, dai decessi, 42 quelli nuovi in Piemonte, 6 invece nuovi decessi in provincia di Cuneo. Per quanto riguarda i contagi, se ne registrano in Piemonte 939 di nuovi e 236 quelli nuovi invece in provincia di Cuneo. veniamo ai ricoverati, 6 piemontesi in meno in terapia intensiva, 52 invece le persone in meno della nostra regione in terapia non intensiva, 1739 persone in meno in isolamento domiciliare, tutto questo a fronte di 10.445 nuovi tamponi effettuati. Per quanto riguarda i guariti, invece ci sono 2694 nuovi guariti in Piemonte e 382 nuovi guariti invece in provincia di Cuneo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio proprio la situazione in provincia di Cuneo, in particolare andiamo a vedere i contagi nelle Sette Sorelle della Granda, utilizzando come sempre la mappa della regione Piemonte per prendere i dati, 184 i positivi a Cuneo, ad Alba sono 141, 119 invece a Bra, 82 a Fossano, a Mondovì i contagi sono a quota 92, 30 a Saluzzo e poi 59 invece nella città di Savigliano. Restiamo in qualche modo in tema perché come saprete si attendono a breve le nuove disposizioni governative contenute nel DPCM che entrerà in vigore da sabato 16 gennaio. A guardare a questi nuovi provvedimenti con particolare apprensione ci sono anche i bar per il possibile stop all'asporto dopo le 18. Si continua a discutere dei bar e in particolare adesso sembra che il governo sia orientato a limitare anche l'asporto dopo le 18. Cosa ne pensa in merito? Non so, è ancora peggio, come dire, ancora togliere il lavoro. Quel poco lavoro che uno poteva fare dalle 18 fino alle 20, quel pochissimo lavoro perché non penso che comunque ti peggiorino solo le cose, come dire, è sempre peggio. È un po' tutto lì, è un po' un controsenso che ci sono appunto poi i negozi pieni, i supermercati, ci sono altri negozi che comunque vedi che c'è la coda e sembra che ce l'abbiano poco. No, sinceramente, quei ristoratori e i bar perché già stiamo lavorando poco, anzi abbiamo lavorato proprio pochissimo e ancora ci vogliono ancora togliere quel poco, capisci? L'asporto lei lo praticava o ha scelto di no? Io ho scelto di no perché tanto non è vale la pena, non è che fossi una pasticceria, comunque avessi dei dolci, però essendo solo una caffetteria, aperitivi, non ne vale la candela, diciamo. Però quei poveracci che appunto può darsi che da esporto comunque lavoravano, aggiustavano un po' la giornata, diciamo, era una bella mazzata anche quello, capisci? Sì, poi io spero che ci pensino veramente, non so cosa vogliono fare, ci vogliono proprio far chiudere del tutto. Ecco, adesso siamo tornati in zona gialla, voi avete potuto anche riaprire i battenti, anche proprio di fare entrare la gente all'interno dei vostri locali, come la gente come diffidente oppure no? Certo, ma ci mancherebbe, ma io penso che la gente ha paura, poi essendo un locale piccolo non lavori fuori ma con il suo tempo qua non lavori, un locale piccolino come fai a lavorare, come fai a sostenere tutte le spese, capisci? Pensa dai sport, che devi tenere il locale chiuso, fare solo le cose da portare via, è impossibile. Poi ripeto, c'è gente che ha la possibilità come pasticceria e queste cose qua che possono lavorare, appunto, gli tolgono ancora quel poco, si è messi male, non lo so se veramente ci avranno con noi, che poi appunto ti guardi un attimo in giro, centri commerciali, negozietti, supermercati, queste cose qua sono imballate, non c'è né distanziamento e poi se la prendono con noi per appunto l'esporto, ma dai veramente, è incredibile. La cronaca ci porta a Bra, traffico rallentato questa mattina a 12 gennaio sul ponte di Via Cuneo, a causa di un incidente che ha coinvolto un auto articolato per trasporto veicoli, Mercedes ed una Nissan Micra. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali ai veicoli coinvolti, in particolar modo alla Micra. I rilievi sono stati eseguiti dalla pattuglia di pronto intervento della Polizia Municipale di Bra, sul posto erano presenti anche altri agenti ovviamente per regolamentare la viabilità e poi una squadra dei vigili del fuoco ovviamente del distaccamento della città della Zizzola. Torniamo sul nuovo DPCM, sulle misure attese in queste ore, per quanto riguarda l'apertura degli impianti sciistici prevista per il 18 gennaio, sembra si vada verso un nuovo rinvio. Per questo le regioni interessate, tra cui il Piemonte, chiedono aiuti e ristori che siano adeguati e soprattutto rapidi. Tutto fa pensare all'ipotesi di un nuovo rinvio dell'apertura degli impianti sciistici prevista dall'attuale DPCM per il 18 gennaio, uno slittamento che vorrebbe dire prolungare ulteriormente il periodo di grande difficoltà del comparto del turismo invernale, che in provincia di Cuneo rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia del territorio. Le nostre montagne stanno pagando un prezzo particolarmente alto per questa pandemia, ma si tratta di una condizione che riguarda anche altre realtà italiane. Per questo dell'argomento si è discusso nel corso della Commissione Speciale Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, a cui ha partecipato in rappresentanza del Piemonte, l'assessore allo sport Fabrizio Ricca. Si è parlato del protocollo e delle linee guida di utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici, ma si è anche preso atto dell'ipotesi annunciata dal Governo del nuovo rinvio dell'apertura. Questo significa un incremento della crisi di tutto il comparto, hanno dichiarato i rappresentanti delle regioni montane. Chiediamo al Governo di assumere un impegno serio nei confronti di questo settore, garantendo ristori certi, immediati e proporzionali alle perdite subite. Parliamo di un settore, quello del turismo legato alla montagna, che in condizioni normali sviluppa almeno 20 miliardi di euro durante la stagione invernale, ma che rischia, a crisi epidemica finita, di non avere più la forza di rialzarsi. Questo è il grido di allarme mandato al Governo dalle regioni, che si dicono disponibili fin da subito, nella collaborazione istituzionale per trovare una soluzione condivisa e immediata. Andiamo nel Saviglianese, precisamente a Murello, dove i vigili del fuoco del comando di Cuneo, questa mattina, sono intervenuti per l'incendio di una canna fumaria, come state vedendo nell'immagine. La squadra di Saluzzo e quella dei volontari di Racconigi hanno spento le fiamme e poi messo in sicurezza la struttura. Dunque, fortunatamente, nessuna conseguenza grave. Restiamo in qualche modo in argomento vigili del fuoco, perché arrivano buone notizie, c'è una notizia veramente di poco fa, che arriva dal Monregalese, in particolare dalla città di Mondovì, che grazie all'impegno del comune non perderà i propri vigili del fuoco. Il distaccamento sarà ora nella sede provvisoria di Via Torino, Angolo Corso Inghilterra, presso l'ex officina Garelli, mentre invece la sede definitiva del distaccamento sorgerà in Via Trento. E notizia di oggi, di poco fa, che c'è una garanzia, ovvero che la città di Mondovì non perderà i propri vigili del fuoco. Che cosa è cambiato? Sì, oggi proprio una bella notizia per la nostra organizzazione sindacale. Questa mattina siamo stati ricevuti presso il Palazzo della Regione a Torino e abbiamo avuto questa magnifica notizia, dove il distaccamento di Mondovì ha garanzie di avere un futuro, una nuova sede, ma soprattutto in un periodo transitorio ha avuto la garanzia dall'amministrazione comunale tramite il sindaco di Mondovì. Questo è il documento che delibera quanto ha affermato il sindaco, fresco fresco, freschissima stamattina, che avremo uno spostamento e l'amministrazione farà la sua parte nel completamento del canone per il nostro distaccamento. Ecco, allora spieghiamo dove sarà la sede provvisoria e quale sarà poi quella definitiva. Allora, la sede provvisoria di transizione sarà sita in Via Torino, angolo corso Inghilterra, presso le ex officine Garelli, mentre la nuova sede, questo un progetto che è di 3-4 anni, sarà sita poi in Via Trento, la sede definitiva. E con questo abbiamo detto, grazie all'impegno, spieghiamo bene qual è stato l'impegno del comune di Mondovì nel venire incontro a queste esigenze. Assolutamente, il sindaco si è subito prorogato quando a novembre dello scorso anno abbiamo avuto lo spratto esecutivo della sede, ormai comunque non più idonea al soccorso. Abbiamo attivato immediatamente le autorità sia territoriali, tramite il sindaco di Mondovì, e l'autorità regionale con il presidente della regione Piemonte, Alberto Ciria. Questa mattina abbiamo fatto proprio un tavolo tecnico. Ecco, tutto questo ovvia così al problema dello sfratto. Assolutamente sì, quindi il comune di Mondovì nella parte di transizione ovvierà con integrazione al canone di locazione, mentre a breve ci sarà il rogito dove donerà, dove sorgerà la nuova sede del distracamento di Mondovì al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il terreno per la costruzione. Ecco, ci sono stati parecchi timori del fatto che Mondovì e l'ampio territorio che viene servito dei Vigili del Fuoco potesse restare senza di voi. Assolutamente sì, il Morregalese, 65 comuni, un tratto di autostrada, Torino-Savona, delle vallate. Uno dei rischi che si potevano verificare è quello del ritiro del presidio da parte dei Vigili del Fuoco del Morregalese presso la sede di Cuneo, quindi allungando i tempi del soccorso tecnico. Oltre che la nostra soddisfazione a livello di sindacato, ringraziamo le autorità territoriali con il sindaco di Mondovì, le autorità ovviamente regionali nella figura del Presidente Regione Cirio e il Consigliere Bon Giovanni. E ora che si affronti la situazione collettivamente, pubblico e privato affinché la nostra provincia continui a rimanere grande. A dire ciò, in queste ore l'Associazione Culturale Cuneese rigenerazione tramite il suo Presidente Pietro Carluzzo, in merito ovviamente alla in noi difficile situazione infrastrutturale della nostra provincia. Tanti e noti i problemi della Granda sotto questo punto di vista che l'Associazione rimarca dall'incompiuta a Sti Cuneo, passando per la costante chiusura del Colle della Maddalena, senza contare poi la Galleria del Tenda fuori uso, la Cuneo inizia con sempre meno corse e collegamenti stradali che scarseggiano. Oggi la nostra provincia non può permettersi una debolezza politica, ferma localismi, dice Carluzzo, ma deve essere unita per dare peso a queste urgenze, tanto più in vista del Recovery Fund. È necessario, dicono ancora dall'Associazione, che si convochi al più presto un Consiglio Provinciale Comunale Congiunto, aperto anche alle istanze delle energie private e con il supporto delle fondazioni bancarie, in cui assieme si completi e si migliori ciò che oggi ancora non abbiamo buone infrastrutture, ovviamente che ci colleghino al resto del Paese. Dunque prosegue il lavoro dell'Associazione Culturale Rigenerazione, che tra l'altro in questi giorni vede il lancio del proprio sito web www.rigenerazioneculturale.com. Ed ora parliamo di un prodotto d'eccellenza della terra cuneese, il cappone di Morozzo, cappone di Morozzo che lascia i confini provinciali, regionali, addirittura quelli italiani, per sbarcare niente meno che in Thailandia. Vediamo in che modo. Anche senza fiera, almeno non nella sua versione particolare, il cappone è stato celebrato con successo a Morozzo anche nel 2020. Il comune, con Manuela Fissore e la TL, hanno infatti spedito il cappone anche a quattro chef in Thailandia affinché ne proponesse una personale rivisitazione. Chef Tim Butler di Eat Me, americano da 13 anni a Bangkok, lo ha preparato con erbe aromatiche, comprese citronelle, lime e zenzero, poi lo ha affumicato per quattro ore e servito col chili. Luca Pino, proprietario della bottega tra i ristoranti italiani più famosi e premiati a Bangkok, ha affidato il cappone al suo chef Andrea Ortu nelle preparazioni di tortellini con ripieno di cappone, prosciutto crudo, mortadella e parmigiano reggiano. Paolo Vitaletti, proprietario di Appia, cucina italiana in particolare romana, con il suo chef Miro Mattalia, fino all'anno scorso chef del consorzio di Torino, ha invece proposto il cappone di Morozzo farcito con salsiccia, cicoria, guanciale e patè di fegato. Infine, la Jua, ristorante di ispirazione giapponese, lo chef Chet Atkins, ha creato una sua versione dello Yakitori di cappone. L'idea del cappone all'estero è piaciuta e la TL è già pronta a osare ancora di più. Il progetto per il prossimo autunno potrebbe essere quello di farlo diventare un appuntamento fisso, allargando lo sguardo anche ad altri prodotti tradizionali dell'eccellenza cuneese. Ed ora continuiamo in qualche modo a restare in tema animali e vi raccontiamo la bella storia, una storia a lieto fine, quella di Balù. Un cane, un piccolo cane abbandonato nei giorni scorsi a Villanova Mondovì, precisamente in frazione Garavagna, legato ad un tabellone dei manifesti mortuari in mezzo alla neve e al freddo di questi giorni, di queste ore. Fortunatamente sono intervenuti a salvarlo i volontari della LIDA, la Lega Italiana dei Diritti dell'animale ed ora si trova, buon per lui al sicuro, nel canile di Cuneo, siamo andati a vedere. Ci troviamo al canile di Cuneo, vicino al cane Balù, il nome che avete dato voi a questo cane, che ha avuto un'esperienza particolare. Ci vuole raccontare dove lo avete trovato, in che condizioni, com'era, insomma, ha vissuto delle ore non facili. Sì, diciamo così, il cane evidentemente è stato traumatizzato in quanto è stato legato per un certo periodo abbastanza significativo con una corda e un guinzaglio a un cartello mortuario. Abbiamo avuto la segnalazione dall'Asl CN1 di Cuneo di intervenire per prendere questo cagnolino, il quale era stato segnalato da un ragazzo che passando si è reso conto di questa situazione anomala. Quando siamo giunti sul posto abbiamo visto che il cane tremava perché c'erano meno tre gradi, era spaventato e abbiamo provveduto a metterlo in sicurezza. Dopodiché è stato portato al canile sanitario in attesa, come previsto, dei dieci giorni di osservazione. Dopodiché andrà al canile di riferimento che è Collina Belmonte di Busca. Al momento ci sono un sacco di persone che si sono fatte avanti perché è una storia abbastanza significativa, ma vogliamo anche se di spessore in quanto non si abbandonano i cani, piuttosto ci si rivolge a strutture, a qualcosa, ma non legare così in maniera selvaggia proprio un cane che sicuramente col calare delle temperature di notte sarebbe morto, credo. Appunto, quando succedono cose di questo genere, soprattutto in questo momento dell'anno in cui fa molto freddo, quando ha saputo di questa cosa, qual è il sentimento che le viene? Cosa le viene da pensare? Che ci sia gente che fa questi gesti? Intanto non può che essersi un forte sentimento di disprezzo perché gli animali nella fattispecie dei cani sono esseri senzienti per cui sono come noi. Un gesto simile non ha una ragione, tuttavia mi sento anche di dire che per paradosso questa persona ha tentato di salvarlo in qualche maniera, anche se maldestramente, perché legare un cane in quelle condizioni con queste temperature non è il massimo, avrebbe potuto optare per altre soluzioni, però il mio sentimento è stato di rabbia sicuramente e anche purtroppo in Italia siamo molto indietro come animalismo. Comunque adesso lo vediamo, sta bene, insomma si è rifocillato. Lui Balù è un cagnetto veramente dolce, pauroso perché è evidente che ha il trauma dell'abbandono, però è un cane che merita tutte le attenzioni e il calore familiare, quindi se qualcuno fosse interessato noi siamo sempre disponibili e gioiosi a darlo. E con la storia di Balù si chiude questa edizione del telegiornale, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Al prossimo episodio